Io mi chiamo Alessio Provenzano, ho cercato di introdurre una cultura nuova che è quella del pesco. I terreni non sono del tutto favorevoli perché è un'argilla molto forte e mi penalizzano molto anche per le pendenze che ci sono e tutto quanto, però ho provato e ci sto riuscendo. A Valagro l'ho iniziata a conoscere l'anno scorso, però io sono arrivato in una fase in cui era troppo tardi da iniziare ad utilizzare e mi ero ripromesso di provare questi prodotti e seguire l'intero ciclo per vedere le differenze e effettivamente le differenze ci sono state. All'inizio ho iniziato in fioritura e ho usato il benefit con l'MC Cream. Ha favorito molto la legagione dei frutti e anche se è stata un'annata bizzarra nel senso che le temperature non hanno aiutate ed è stata una fioritura molto lunga. È durata un mese la fioritura quindi è stato difficile, però ci siamo riusciti ugualmente. Poi ho proseguito con il Calbit e l'MC Extra dalle ragioni di frutti avvenuti per migliorare la pezzatura dei frutti e uniformare un po' la pezzatura. Il Master Supreme che sto utilizzando in tre passaggi e devo dire che dal punto di vista nutritivo per la pianta è molto buono.